Via libera del governo al decreto del fare tra le nuove misure, tagli alle bollette elettriche per 550 milioni di euro, aiuti per 5 miliardi alle imprese che innovano, 3 miliardi per sbloccare cantiere di opere pubbliche, non sarà pignorabile la prima casa. Rinviate ai consigli dei ministri della prossima settimana i provvedimenti sulle semplificazioni e sul lavoro. Berlusconi promuove il decreto del fare e benedice il governo dell'Argentese a cui manda però un avvertimento sull'Imu, va abolita dice il Cavaliere che poi insiste, bisogna trovare anche le risorse per evitare l'aumento dell'IVA. Sul decreto giudizio con riserva del leader Cigelle Camusso ci sono segnali positivi. Mentre il governo è al lavoro sulle misure anticrisi i partiti di maggioranza polemizzano sull'ipotesi di un esecutivo alternativo a quello delle larghe intese come il prospettato da Bersani a cui ha dato manforte il segretario del PD Epifani. Una soluzione che non convince una parte dei democratici e che ha scatenato le reazioni del PDL. Tra i 5 Stelle divisi sul caso Gambaro sembra più vicina all'ipotesi di una scissione. A Istanbul l'assalto della polizia contro i manifestanti di Gezi Park dopo ore di scontri sgomberata all'alba l'area verde da cui è partita la protesta contro il premier Erdogan. I dimostranti denunciano usati agenti chimici nell'acqua degli idranti da parte delle forze antisommossa. Nel pomeriggio annunciate nuove proteste a Istanbul e Ancara. Scetticismo di Israele sulla vittoria di misura nelle elezioni presidenziali iraniane del moderato Hassan Rorani. Non ci sono e non ci facciamo illusioni ha detto il premier israeliano Netanyahu. Il nostro ministro degli esteri Bonino parla di una buona notizia e invita ad aprire il dialogo con Tehran sui dossier nucleare e sulla Siria. Dunque buongiorno e una buona domenica dal telegiornale della Sette. Dunque un esecutivo che chiaramente passa dalla fase degli annunci alla fase del fare, parlare con i fatti. Il decreto del fare annunciato da Letta è passato ieri dopo una lunghissima riunione in consiglio dei ministri. È un provvedimento completo che fa vedere anche quanto l'esecutivo possa lavorare con unione di intenti su questioni che riguardano la vita quotidiana, concreta e pratica dei cittadini. Dunque lo sapete, si va dalle semplificazioni, scusate, tutto il nodo delle carceri e anche tutto il pacchetto, quello più delicato del lavoro, prenderà vita la prossima settimana. Intanto le misure che sono già state approvate riguardano lo sblocco dei cantieri, ma anche una giustizia più veloce, un costo dell'energia più basso e poi si tocca l'edilizia scolastica e si tenta di arrivare. Ed è insomma un'impresa piuttosto complicata, anche un fisco che si è sentito più vicino e più amico per le famiglie italiane. Prima il fare, poi il semplificare, infine il lavoro. C'è voluto un consiglio dei ministri Fiume ieri per varare il primo decreto pesante del governo Letta, ormai noto come decreto del fare. Tanto pesante che non c'è stato spazio o tempo per l'altro provvedimento, quello del semplificare, che verrà approvato invece mercoledì prossimo. Venerdì invece di scena le misure per il lavoro. Vediamo dunque cosa c'è in questa prima tranche di novità. Stimoli all'economia innanzitutto. 5 miliardi di euro per le imprese che decidono di rinnovare i macchinari. Li fornirà la Cassa Depositi e Prestiti attraverso le banche ad un tasso di interesse pari alla metà di quello di mercato. Il valore massimo dei prestiti è fissato a 2 milioni per azienda, dato che il provvedimento è indirizzato alle piccole e medie imprese. 3 miliardi di euro di investimenti in opere pubbliche per creare circa 30.000 posti di lavoro in un settore, quello dell'edilizia, tra i più sofferenti per la crisi. Nuovi cantieri si apriranno per strade e autostrade, le metropolitane di Roma, Milano e Napoli. In realtà non si tratta di risorse nuove. Lo stesso ministro per le infrastrutture, Maurizio Lupi, ha parlato infatti di una partita di giro. Sono soldi che verranno distolti da cantieri, come quello per la TAV, in cui per ragioni varie al momento non potevano essere utilizzati. Risorse che prima o poi dovranno essere ricollocate al loro posto, ma il governo spera che nel frattempo questo stimolo serva a ridare fiata al settore. Ci saranno anche 100 milioni l'anno fino al 2016 per l'edilizia scolastica, in particolare per la messa in sicurezza degli edifici. Poi ci sono i 500 milioni di sconti sulle bollette elettriche, e questo non solo per le imprese ma anche per le famiglie. Arriveranno da un adeguamento rispetto agli attuali prezzi del gas da tempo in netta discesa e dal mancato aumento di circa 300 milioni che era destinato agli incentivi per i biocarburanti. Particolarmente delicato era l'intervento su Equitalia, che vede in parte ridotti i propri poteri stanzionatori. Si è cercato poi di dare impulso all'attività della pubblica amministrazione, che dovrà pagare per i propri ritardi. 50 euro per ogni giorno di lungaggini nelle procedure amministrative, fino a un massimo di 2000 euro. Il governo tenta poi di affrontare il grande male della giustizia civile italiana, vera palla al piede per il paese. Torna la mediazione obbligatoria per cercare di evitare molte cause. I tribunali potranno offrire stagia ai laureati in giurisprudenza, che daranno una mano ai magistrati. E 400 giudici non togati verranno chiamati a smaltire gli arretrati delle corti d'appello. Si spera così di avere oltre un milione di processi in meno nei prossimi 5 anni. E poi ancora scompariranno tutti i certificati medici necessari per qualunque tipo di impiego pubblico o privato. Si accelera la cosiddetta agenda digitale, già avviata dal governo Monti. Francesco Caio viene nominato commissario del governo, con l'incarico di far dialogare tra loro le 129 banche dati del sistema tributario italiano, per una più efficace lotta all'evasione. E a proposito di digitale, diventa libero l'accesso al Wi-Fi, non sarà più necessaria l'identificazione dell'utilizzatore. Per le università arriva la possibilità di assumere 1500 professori ordinari e 1500 nuovi ricercatori nei prossimi anni. E poi per gli studenti particolarmente meritevoli delle superiori ci saranno borse di studio per frequentare l'università in regioni diverse dalla propria. Cittadinanza italiana infine più semplice per i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri. Abbiamo detto di una riunione del Consiglio dei Ministri Fiume, in particolare quel che si è saputo che è stata particolarmente lunga e delicata la discussione sulla revisione dei poteri di Equitalia, una questione di cui si è a lungo parlato anche negli ultimi mesi, perché la gente di riscossione in molti casi è stato visto dalle famiglie italiane come un nemico da combattere, da contrastare, in certi casi purtroppo addirittura da colpire. Ecco dunque una serie di norme che cercano di andare incontro soprattutto ai cittadini e alle famiglie più in difficoltà. Tagliare le unghie ad Equitalia, un fisco amico dei cittadini, slogan detti e ridetti in questi lunghi mesi, ma che da ieri, con l'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, sembrano poter trovare una loro prima importante applicazione pratica. Già perché la parte relativa al fisco e al ruolo dell'Agenzia di riscossione è centrale nell'architettura del provvedimento. Primo punto e più importante, l'impignorabilità della prima casa, impignorabilità che varrà per debiti tributari inferiori ai 120.000 euro e nel caso l'immobile in questione sia il solo in possesso del debitore che lo utilizza come abitazione principale e vi risiede anagraficamente. Escluse le abitazioni di lusso, sarà dunque possibile iscrivere l'ipoteca ma non procedere al passo successivo, una misura che mira a proteggere i contribuenti con reddito medio-basso. Ma l'esecutivo ha deciso di porre dei limiti anche al pignoramento dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa che sarà possibile solo nel limite del quinto del loro valore. Beniché, anche se pignorati rimangono nella disponibilità del debitore, inoltre la loro vendita giudiziaria non potrà avvenire prima di 300 giorni dall'avvio della procedura. Dare maggior respiro al contribuente e alla sua attività è questa la logica che sta dietro ad un'altra norma cardine della parte di provvedimento relativa al fisco, quella che concerne la rateizzazione dei debiti. Fino a ieri infatti bastavano due rate consecutive non versate per decadere da questo beneficio, vitale per molti piccoli imprenditori in crisi di liquidità per poter onorare gli obblighi fiscali e al contempo portare avanti la propria impresa. Dopo il decreto la soglia viene alzata a sette rate non pagate, anche non consecutive. In pratica all'ottavo mancato pagamento il contribuente decadrà dalla rateizzazione del proprio debito, un ammorbidimento anche rispetto alla prima bozza di provvedimento che poneva un limite massimo di cinque versamenti non effettuati. Inoltre il numero delle rate possibili passa da 72 a 120. Ultimo punto, l'annosa questione dell'agio, ovvero la percentuale aggiuntiva rispetto all'importo da recuperare pari all'8%, che attualmente Equitalia incassa sulle cartelle. Ebbene, il decreto del fare lo abolisce sostituendolo, per usare le parole del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, con il solo rimborso dei costi fissi, il che si dovrebbe inevitabilmente tradurre in cartelle più leggere per i contribuenti. Fin qui quel che è andato dentro il decreto del fare resta fuori. Una questione come quella pesante e lungamente discussa dell'aumento dell'IVA che è prevista a luglio e quell'altra, quella della rimodulazione della tassa dell'Imu, è oggetto di campagna elettorale ma anche di costante braccio di ferro tra il PD e il PDL con una questione altrettanto urgente di reperire risorse alternative. E dunque proprio in tema di Imu quella è la tassa per cui c'è la prossima scadenza per gli italiani possessori della seconda casa. Sarà una settimana importante per il Governo anche sui temi del lavoro e del fisco. Palazzo Chigi convocherà i sindacati per un confronto. L'appuntamento potrebbe essere per giovedì prossimo e precedere così la manifestazione nazionale indetta da CGL, Cisle e Will per sabato a Roma perché il lavoro torni al centro delle scelte politiche ed economiche. Tema che resta in primo piano tra le forze sindacali. Molto meglio, secondo la Cisle, un taglio vigoroso delle tasse a lavoratori e pensionati piuttosto che i provvedimenti sull'Imu. E così la pensa anche il numero uno della CGL Susanna Camusso che esprime l'apprezzamento per la scelta del Governo di continuare il confronto su questo tema cruciale. Ma l'Imu della discordia continua a dividere i due soci di maggioranza del Governo. Da una parte il PDL che ne vuole la cancellazione, dall'altra il PD che non vuole che ne beneficino anche i paperon dei paperoni, cioè i ricchi. In attesa della revisione dell'intera tassazione sugli immobili annunciata da Letta entro fine agosto, una cosa è certa, entro domani bisogna pagare la priva parte dell'Imu dovuta per il 2013. Se la tassa sulla priva casa e sui terreni e i fabbricati agricoli è stata sospesa, per tutti gli altri immobili dovrà essere pagata. Per le casse dello Stato e dei Comuni è previsto un gettito di quasi 10 miliardi di euro. Nel pagamento della prima rata sono incluse le case di pregio, seconde case, capannoni industriali e commerciali. L'ammontare della prima rata dell'Imu deve essere pari al 50% del totale versato nel 2012, sempre che l'immobile sottoposto al pagamento non abbia subito un passaggio di proprietà o un cambio di destinazione d'uso. In allarme ci sono i Comuni che denunciano, in attesa delle decisioni del Governo, non potranno fare i bilanci di previsione e quindi nemmeno garantire la qualità dei servizi per i prossimi mesi. Sentivamo della linea comunque di divisione di confronto con i sindacati, è quella più volte indicata dall'esecutivo di Letta, in questo senso vanno lette anche le parole. Il primo commento, anche se parziale, della leader della CGL Camusso, che ha parlato di segnali positivi del decreto del fare. Quelle 80 misure molto pratiche che hanno avuto un altro effetto, quello di ridar voce a Silvio Berlusconi in silenzio, aveva scelto la linea del silenzio dopo e durante il pesante weekend elettorale per il PDL. Ecco, mi lasci anche dire che questi provvedimenti sono in linea non solo con i programmi che avevamo indicato durante la campagna elettorale, ma anche con il nostro sostegno convinto e leale a questo Governo che è espressione di un fatto storico, anzi un fatto epocale, e cioè quello di una collaborazione tra il centro-destra e il centro-sinistra che avviene dopo lunghi decenni di contrasti anche aspri. E io spero davvero che questa collaborazione possa durare. Al telefono con studio aperto, Silvio Berlusconi benedice il decreto del fare e il Governo delle Larghe Intese, di più se lo intesta come realizzazione o avvio di quello sciocchi in economia che aveva auspicato nella campagna elettorale delle amministrative. È il primo commento dopo il lungo silenzio che ha seguito la disfatta del PDL e del centro-destra nel suo complesso ai ballottaggi. E tuttavia Berlusconi salta completamente la questione. Meglio concentrarsi sul ruolo di grande azionista, dal suo punto di vista il più forte, della maggioranza del Governo Letta. Un fatto epocale, la grande coalizione sottolinea che deve durare il più possibile. Per questo ci tiene a ricordare che le promesse vanno mantenute, sull'Imu prima casa da abolire come sull'aumento di un punto dell'IVA che va bloccato, attingendo dal riordine e dunque dal taglio degli incentivi alle imprese, quelli inutili come progettato senza arrivare in fondo dal Governo Monti. Le risorse si devono trovare, dice il Ministro dell'Economia Saccomanni, a quello dello sviluppo economico zanonato, con parole tuttavia diverse da quelle di Brunetta e Gasparri. Ma l'intervento di Berlusconi, così orientato sul sostegno a Letta, è anche una risposta agli scenari di Ribaltone, l'ipotesi di una diversa maggioranza con PDG, lini dissidenti o scissionisti e SEL, evocata da Bersani e soprattutto da Epifani ieri, ancorché poco praticabile, numeri alla mano. Una risposta anche ai falchi del PDL che descrivono il leader perennemente tentato dallo strappo e dal ritorno alle urne, che lo incoraggiano verso il ritorno a Forza Italia. Non ci sono alternative alle larghe intese, sembra dire Berlusconi, elogiando le colombe, la squadra PDL ora al Governo. E questo elogio della pacificazione è anche il viatico da tenere a mente nella delicatissima settimana che si apre, a tre giorni, il 19, dalla sentenza della consulta sul legittimo impedimento per il processo Mediaset, che potrebbe, se favorevole al Cavaliere, aprire la strada a un'eventuale prescrizione. E l'altro azionista della maggioranza governativa, lo sapete, è il PD, a sua volta ha le prese con gli equilibri interni difficili da trovare in una fase così delicata come quella che porterà a un congresso, di cui ancora bisogna scrivere non solo la data, ma anche le regole. Un governo alternativo alle larghe intese. L'ipotesi lanciata dall'ex segretario Bersani e confermata dall'attuale Epifani fa discutere il PD. Non è detto che la fine di un governo corrisponda alla fine di una legislatura, ha detto ieri Epifani, di fatto confermando le parole di Bersani in un'intervista al Corriere della Sera. Se Berlusconi stacca la spina al governo, non si torna a votare. Un avvertimento, hanno spiegato i due, che serve ad allontanare tentazioni di crisi da parte del PDL e dunque a rafforzare l'ETTA. Ma le parole di Bersani su un governo di cambiamento ancora possibile sono state interpretate dentro e fuori il partito come una voglia di ribaltone, ora più vicina con la crisi del Movimento 5 Stelle e le voci di scissione al suo interno. I primi a dare l'alto l'Alex segretario sono stati i Renziani, parlare di governo di cambiamento è una bordata, chi ha parole si vuole difendere, cioè l'ETTA. Francesco Boccia, fedelissimo del Premier, avverte un ribaltone da escludere, non credo che Berlusconi o Monti staccheranno la spina al governo. Quanto a governare con i grillini, Boccia ricorda il governo di cambiamento è possibile quando si vincono le elezioni, ma l'eventuale diaspora 5 Stelle per l'ala sinistra apre scenari diversi. Per il governatore della Toscana Enrico Rossi, una maggioranza alternativa al Senato è una prospettiva da valutare. Un altro governatore, quello del Friuli, la Serracchiani, ritiene che ormai i grillini non siano più affidabili e che l'attuale maggioranza di l'argentese sia l'unica possibile. Lo stesso Bersani ha precisato, noi non staccheremo mai la spina a questo governo, un ribaltone non è possibile, discussioni che avvengono sullo sfondo di un partito già avviato verso il congresso in cui la partita del governo e quella della futura leadership si mischiano pericolosamente. Il PD ormai è chiaro che nelle ultime tempi ha lanciato segnali abbastanza importanti al Movimento 5 Stelle, un partito sull'orlo di una crisi di nervi, qualcuno scrive, comunque sull'orlo di una scissione con quell'appuntamento fissato per l'inizio della settimana prossima che potrebbe dare una via definitiva ai malumori dei dissidenti. Non gira intorno alla questione il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Dietro il caso Gambaro si muove un gruppo di traditori mossi solo ed esclusivamente da interessi economici. Ci sono deputati e senatori che si sono trovati sul conto 20.000 euro e hanno deciso di non restituirli più. Sono le stesse persone che hanno tirato sulla questione delle diarie una strana coincidenza, dice Di Maio, al Corriere della Sera. Parole destinate a condizionare pesantemente l'assemblea di domani pomeriggio dei gruppi parlamentari che dovrà decidere se Adele Gambaro deve lasciare il Movimento per aver incolpato Grillo del crollo dei 5 Stelle alle amministrative. Chi ha detto di condividere i dubbi della senatrice Gambaro adesso sa che gli ortodossi fedelissimi di Grillo non cercano mediazioni di qua o di là. Lo stesso Di Maio mette in conto una scissione pochissimi però, come quei due che sono passati al misto in riferimento ai pugliesi, Labriola e Furnari, che Di Maio evita anche di nominare. Tutti i nomi di quelli che definisce i nostri scilipotizzati dice di essere pronto a farli Riccardo Nuti, capogruppo alla Camera dei Grillini, che risponde anche alle critiche del senatore Gianrusso, che lo aveva accusato di denunciare compravendite di parlamentari senza fare nomi. Gianrusso mi denuncia i nomi, li dirò al momento giusto. Lui, me lo ricordo, è qui perché abbiamo fatto le liste in fretta. In futuro ci sarà maggiore attenzione nella selezione, la frecciata velenosissima contro Gianrusso, che pure in queste ore si spende come pontiere per evitare la spaccatura. Come Michele Dell'Orco, Emiliano come Lagambaro, critico con la collega per l'uscita, che giudica infelice, ma non così grave da meritare l'espulsione. I dissidenti potrebbero organizzare un nuovo gruppo, la sfida di Tommaso Currò, il siciliano inserito già dai tempi delle elezioni del Capo dello Stato nella lista dei dialoganti da mettere sotto osservazione. Un gruppo che, secondo indiscrezioni, starebbe già lavorando al nuovo statuto. Nel dibattito non manca l'intervento dell'ideologo Becchi. I parlamentari devono dare il loro via libera al giudizio sulla Gambaro, che deve essere affidato alla rete. Il movimento è tutto, loro solo i portavoce. Per sostenere le ragioni di Grillo, i Cinque Stelle di Roma hanno organizzato una manifestazione martedì mattina davanti Montecitorio. Non ci sono, invece, conferme su un possibile arrivo nella Capitale nei prossimi giorni, proprio di Grillo, insieme a Casaleggio. È tempo di confronto e di analisi alle prese con un altrettanto pesante flop elettorale. Anche la Lega Nord, lo Stato Maggiore del Carroccio, riunito oggi a Milano, con quel tema del Nord non più trainante, nuovi percorsi da intraprendere, con un'opposizione che resta una posizione dura da parte del segretario Maroni, che questa mattina ha svuotato, dal suo punto di vista di ogni significato, il decreto del fare dell'esecutivo di Letta. È il governo del non fare, o del fare tanto fumo e poco arrosto. Un giudizio, quello del segretario della Lega, anticipato da un eloquente prima pagina della Padania. Maroni ha convocato questa mattina gli eletti del Carroccio, al Parlamento, alle regioni, province e comuni, per una sorta di stati generali. Per starci tutti, hanno prenotato un hotel. All'ordine del giorno il bilancio di un anno a guida maroniana, le date del congresso e le nuove strategie. Per la Lega Nord è il momento della riflessione, dopo la batosta elettorale e i mai soppiti di siti interni. È un'occasione di approfondimento, di parlare del futuro, dei nostri progetti, del fatto che il leghismo non è assolutamente morto. La questione del Nord è una questione cogente, e io vengo dal Veneto, i Veneti sanno bene che 18 miliardi di tasse all'anno versate a Roma per vederle sprecate, e non può essere l'idea di una cosa che possa continuare così. Un'occasione anche per definire la prossima data del congresso in un primo tempo prevista per la fine di giugno 2015, ma che il segretario Maroni ha più volte detto di voler anticipare ai primi mesi del prossimo anno, se non addirittura in autunno. Un passo indietro del governatore della Lombardia a favore di un giovane. In Lizza ci sarebbero Tosi, Salvini e anche Giorgetti, l'uomo che potrebbe fare da pacificatore all'interno del carroccio. Il movimento deve puntare a individuare la strategia giusta per conquistare i molti simpatizzanti che l'hanno abbandonata, anche se Maroni, sempre più convinto della breve durata del governo Letta, annuncia se andiamo ad elezioni. Siamo pronti. C'è un paese di fatto infiammato dalla protesta che arriva da Istanbul, il cuore di una città pensata e ancora oggi in questo momento ci sono scontri, non in piazza Taksim che è stata liberata stanotte, secondo i manifestanti anche con violenze, con qualcosa che non è andato nell'azione delle truppe antisommossa da parte di Erdogan, ma comunque ci sono scontri e il braccio di ferro costante continua a tenere in allarme tutta la comunità internazionale. Pugno duro con i manifestanti, parte seconda. A quattro giorni dall'irruzione della polizia in piazza Taksim con relativo violento sgombero dei manifestanti, ieri sera la determinazione con cui il premier turco Erdogan sta affrontando la crisi è stata indirizzata sul Gezi Park. Sono arrivate le ruspe, cannoni d'acqua, lacrimogeni, le bombe assordanti, gas al peperoncino, i manganelli. Il dialogo ha lasciato il posto al pugno di ferro perché ormai questa battaglia per Erdogan è diventata una questione quasi personale. Per il premier cedere alle richieste di chi considera teppista nel migliore dei casi e terrorista nel peggiore significa perdere la faccia. E per questo dopo un tentativo di mediazione con alcuni dei rappresentanti dei movimenti che sono scesi in piazza ha mandato la polizia a sgomberare il parco dove i manifestanti erano accampati da oltre due settimane per difendere l'ultimo spazio verde nel cuore di Istanbul. Lo hanno fatto invadendo il parco con le famiglie, montando tende, allestendo cucine da campo e punti informativi, centri d'accoglienza per coloro che sono arrivati da oltre confine per partecipare ad una rivolta che è partita dalla difesa degli alberi e si è subito allargata alle rivendicazioni di una politica più laica. Erdogan sta giocando una partita molto pericolosa. Alla notizia dello sgombero del parco migliaia di persone sono scese in strada non solo a Istanbul ma in tutto il paese. Praticamente la metà dei turchi che non lo hanno votato che vogliono mantenere i principi di laicità dello Stato affermati nel secolo scorso dal padre della Turchia moderna Atatürk e che il governo di Erdogan sta lentamente erodendo. Va ricordato che a far scendere migliaia di persone in piazza oltre all'intenzione di radere al suolo gli alberi di piazza Taksim è stata anche la legge che proibisce di bere alcolici nelle ore notturne. Dopo le violenze della notte durate fino all'alba ora nella zona del parco c'è un cumulo di macerie ma la tregua è solo apparente. In tutto il paese si preparano nuove proteste e il premier Erdogan ha convocato nelle stesse ore i suoi sostenitori per una manifestazione da un milione di persone. Tra i tanti tweet di queste ore molti sottolineano lo stesso pensiero. Il governo sta rischiando di portare il paese sull'orlo di una guerra civile. Sono ore molto importanti anche per un altro paese, l'Iran. molte le aspettative, molte le responsabilità sul premier moderato, riformatore Rouhani che ha vinto le elezioni presidenziali. Una persona, secondo gli occhi della comunità internazionale, Israele a parte, forse capace finalmente di dialogare con l'Occidente. E' una strada tutta in salita, quella che ha davanti a sé Hassan Rouhani un risicato 50,7% appena sufficiente per sottrarsi al confronto del ballottaggio non lo consacra certamente come guida politica indiscussa della nazione. Mahmoud Ahmadinejad, che gli ha dovuto cedere il passo da taline legibilità per un terzo mandato, gli lascia in eredità un paese isolato internazionalmente, accusato di appoggiare il regime siriano di Bashar al-Assad. Ma soprattutto un pericoloso dossier nucleare che toglie il sonno non soltanto ai leader dei paesi vicini. Il premier israeliano Netanyahu non ha nascosto tutto il suo scetticismo ed ha chiesto di non allentare le pressioni internazionali e per farsi capire meglio ha sottolineato che il suo governo non si fa illusioni. Anche il segretario dell'ONU, Ban Ki-moon, dietro i formalismi diplomatici, ha mandato un segnale ben preciso. Le Nazioni Unite intendono continuare a lavorare con le autorità iraniane e con il presidente eletto sui dossier che interessano la comunità internazionale e per il benessere del popolo iraniano. Mentre il nostro ministro degli Esteri Bonino, pur commentando come buona notizia l'elezione di Rouhani, ha chiesto di aprire subito un'agenda ampia di colloqui con l'Iran. Insomma, l'Occidente si mostra cauto e aspetta di vedere quali carte calerà il neopresidente. Sul nucleare, dalla sua Rouhani, può rivendicare di avere firmato il protocollo che autorizza le ispezioni a sorpresa negli impianti, una decisione largamente contestata dalle forze interne più oltransiste. Ma il risultato elettorale di ieri, seppure di rottura con gli ultimi anni, non sembra avere la forza necessaria di imprimere una vera e propria svolta. I risultati del voto del resto sembrano essere legati più ad una bocciatura della politica radicale, ultraconservatrice di Ahmadinejad, che ha la volontà del Paese di aprirsi realmente. Una volontà di cambiamento che, stando ai numeri, spacca in due il Paese. Il presidente Mullah Rouhani si definisce un conservatore moderato. Nella sua campagna elettorale ha messo al primo punto nell'agenda l'impegno a rimettere a posto l'economia iraniana colpita negli anni passati dalle pesanti sanzioni occidentali, ma ancora prima dovrà impegnarsi nella collaborazione con Alika Menei, la guida suprema del Paese, degli Ayatollah. Chiediamo con le gioie del calcio, sicuramente quelle dell'Under 21, per la settima volta in questa categoria. Andiamo in finale degli europei, abbiamo battuto di misura e di sofferenza grande l'Olanda, ce la giocheremo con la Spagna e centrando una rivincita ideale rispetto all'ultimo europeo perso dalla nazionale maggiore, che a sua volta ha finito l'attese perché parte la Confederation Cup di Prandelli. L'allarme è passato, Mario Balotelli ha recuperato e stasera guiderà l'Italia contro il Messico nello stadio dei sogni, il nuovo Maracanà. I brutti pareggi con Repubblica cieca e Haiti hanno lasciato il segno, per questo Prandelli ha scelto la via della prudenza. Nessun modulo spregiudicato, il 4-3-3 torna in aftalina in attesa di tempi migliori. Balotelli sarà l'unico punto di riferimento in avanti, alle spalle agiranno due finti trequartisti, il poliedrico Marchisio e il duttile Giaccherini. Una mossa che dovrebbe, almeno nelle intenzioni di Prandelli, portare densità e pressione in un centrocampo affannato e offrire inserimenti preziosi. Sarà una partita interessante, perché anche noi vorremmo cercare di avere la predominanza territoriale, quindi sarà una partita interessante, soprattutto il centrocampo. Il Messico non attraversa un gran momento, la qualificazione mondiale è una strada in salita, dopo il pareggio interno contro il modesto Costa Rica di mercoledì scorso. La stella è Cicerito Hernandez, che in nazionale ha già segnato 32 gol in 50 gare, ma anche l'Italia appare in affanno. Le ultime apparizioni hanno mostrato gambe stanche e fiato corto, ora se la stanchezza sia imputabile solo al fuso orario da assorbire all'afa di Rio, alla durezza della preparazione svolta a Coverciano, questo lo si capirà già stasera. In difesa, Brandelli si affida all'esperienza di Chiellini, spostato al centro con De Ciglio, che giocherà a sinistra. A centrocampo, tutto ruoterà intorno al genio di Pirlo, che festeggerà la centesima presenza in azzurro. Questa partita, la centesima, in uno stadio così ambizioso e soprattutto che qualsiasi giocatore, bambino, sogna di poterci giocare. Io ho la fortuna di arrivare qua. Ieri sera intanto Neymar ha impiegato tre minuti per mostrare al mondo il suo talento immenso, una rete, la sua che è un gioiello di intuizione e tecnica, un tiro di mezzo collo da 20 metri che ha fatto stragi di Ragnatele sotto l'incrocio alla sinistra di Cavascivo. Il raddoppio di Paulinho è un'apertura di ripresa con un destro in aria sul cross di Dani Alves da destra. Il sigillo a tempo scaduto di Gio lanciato perfettamente da Oscar. In mezzo tanto possesso palla giapponese reso inutile dalla mancanza di un finalizzatore, tante pause e soprattutto la sensazione che contro avversari dotati di maggiore cinismo e di attaccanti davvero pericolosi questo Brasile possa andare in difficoltà. Dunque ci fermiamo solo per un attimo pubblicità e torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque due minuti esatti dopo le 14 vi ricordo come sempre tutti i nostri aggiornamenti continuare a essere informati sul nostro sito internet informazione che torna alle 20 adesso c'è TG Cronache grazie di averci seguito e buona domenica.